Una biografia molto molto accurata che ci racconta appunto come Pierantonio trovandosi a contatto con questi testi di botanica si appassionava sempre di più, raccoglieva piante, comincia a conoscere gli speziali fiorentini ai quali procura le piante officinali, va nell'orto botanico di Firenze a conoscerle, a identificarle e conosce una conoscenza fondamentale quella fatta con i padri Vallombrosani, Falugi e Tozzi, i quali erano appassionati botanici, tra l'altro Tozzi diventerà anche un famoso botanico conosciuto internazionalmente e con loro impara a fare quelli che venivano definiti gli scheletri delle piante.